Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video a tema Black Friday, però oggi è giovedì. Il Black Friday è stato anticipato da Amazon, molti sconti sono già usciti, arriva questo aggiornamento serale in base anche a quello che abbiamo visto sul canale Telegram. Alcune anticipazioni ve le ho fatte vedere comunque anche su Instagram e comunque per qualsiasi domanda potete scrivermi direttamente lì nei commenti di questo video e cerchiamo insieme l'offerta in base alle vostre esigenze. Cosa importante da dire, chi seguiva il canale Telegram in precedenza ha potuto fare degli affari migliori del Black Friday paradossalmente qualche giorno fa, soprattutto sui televisori OLED o QLED che sono praticamente le cose principali che mi state chiedendo da qualche settimana a questa parte. Prima di iniziare vi ricordo due cose semplici, in descrizione trovate il link per avere 5€ di buono Amazon se siete studenti universitari con il Prime Student che è gratis per 3 mesi tra l'altro quindi potete fare anche Natale e poi 3 mesi gratis di Amazon Prime Music che vi permette di avere la musica in streaming anche scaricabile, gratis sempre per 3 mesi, disattivabile un secondo dopo che avete sottoscritto l'offerta. Andiamo a vedere insieme parte delle offerte pubblicate tenendo presente comunque come vi ho detto che se cercate qualcosa in particolare mi potete scrivere e vi posso dare una mano anche in relazione alle offerte che usciranno anche tra qualche ora su cui ho già dato uno sguardo, dopo la mezzanotte ce ne saranno altre che sono interessanti ma dipende se avete già scelto quel particolare prodotto, lo vedete un piccolo sconto aggiuntivo ma nulla che possa far griter al miracolo anche se spesso ci sono delle sorprese. Comunque come stavamo vedendo ho messo sia smartphone a poco prezzo, altre cose che mi avete chiesto, poi ci sono le offerte wow che comunque ci saranno ora per ora e stasera è uscito il rasoio top di gamma della Brown, il serie 6 che vediamo, inoltre c'è stata anche offerta sui tv OLED ancora disponibili se non sbaglio se è disponibile vi lascio comunque anche in descrizione, gli OLED di LG ho provato come sapete un OLED arriverà presto alla recensione anche per giocare per vedere comunque è veramente un'altra cosa. Poi ci sono gli errori di prezzo con i crolli come ad esempio queste cuffie della Fnatic che costano quasi metà prezzo e gli Xiaomi come sempre al minimo storico che possono essere ottimi come smartphone entry level che però hanno un'ottima tecnica sconto già anche per l'iPhone 12 mini, ve l'ho anche segnalato nella giornata di ieri e poi ci sono alcune cose interessanti come l'antivirus per esempio che stiamo vedendo in Lorton a 6€. Non le vediamo tutte, molto semplicemente è un video rapido per spiegarvi che ci sono comunque gli sconti attivi già dalla giornata di oggi l'avete sicuramente visti, come sempre di seguire gli aggiornamenti da Telegram e non perdere l'occasione per comprarvi qualche Echo Dot perché io stesso sono molto tentato da questo Echo Dot di nuova generazione che è a metà prezzo e so che anche l'auto audio si sente molto bene, inoltre ci sono dei computer da gaming anche scontati alcuni sono già finiti tra l'altro perché l'offerta era davvero ottima ho pubblicato anche una bicicletta che ha un prezzo diciamo abbastanza contenuto ho messo a confronto con una che si trovava da Decolon da 300€ e paradossalmente mettendo sulla bilancia le due biciclette qui abbiamo anche l'ammortizzatore in più paradossalmente macchine fotografiche, un sacco di prodotti Sony come sempre l'ultima cosa che vi volevo far vedere, che credo che prenderò anch'io è questo speaker bluetooth smart di Harman Kardon che costa un terzo praticamente rispetto al prezzo di listino quindi penso alta qualità di riproduzione e soprattutto compatibilità con Alexa sulla falsa riga dell'Eco Dot ci sono anche i bundle con le lampadine come in questo caso e poi è uscito anche qualcosa di classico come il Daniel Wellington a metà prezzo comunque trovate tutto sul canale Telegram e questo video appunto è giusto per segnalarvi il tutto e farvi sapere che se vi serve qualcosa potete iscrivermi come sempre io vi ringrazio soprattutto per il seguito dei video degli ultimi giorni domani arriverà un altro continuo alla disamina che abbiamo fatto delle console ma anche dei televisori sono arrivati un sacco di domande su questa tematica e effettivamente andremo poi a chiudere il cerchio con vari confronti e le ultime recensioni rimaste anche per i prossimi giorni fino a fine settimana e anche la prossima quindi io vi esorto come sempre a seguire il canale Telegram come vi ho detto trovate tutti i link in descrizione e per qualsiasi domanda ci sentiamo anche giù nei commenti o su Instagram tramite il profilo che è appunto qui sotto un saluto a tutti e al prossimo video grazie a tutti i link in descrizione